Siamo qui, eravamo rimasti qui Allora, parto dicendo Buon 25 aprile a tutti Buona festa di liberazione Io ho bevuto un po' di vino Quindi Vi porto un contenuto anche oggi Però ce la metto tutta Ma ecco, insomma, questa è la faccenda Quindi Qui siamo in una situazione di crisi di egoismo Che ci porta a perdere fiducia Nelle artilide Io decido che questo è il tempo No Sei ribellato Un'altra riservista Non è giusto Sarebbe quasi da ricaricare Sarebbe quasi Da disinstallare il gioco Va bene Il destino è quello Ora Ho bisogno di un po' più di Interna security Ad aumentare un po' Via Ci vuole un po' di pugno duro C'è un po' di pugno duro C'è un po' di pugno duro La vacca Naca Peccato qui ci sono dei ribelli vicini Ma dove sono i ribelli? Mi sa che compagno nel prossimo turno Eh, sì Probabilmente sì Oppure sono ancora occultati Eh, devo creare le truppe, dai Battaglione questa volta Potrei fare O Motorizzati Le buggy sono le macchinette Però dovrei capire le macchinette Devo capire una cosa Via, vado nei miei modelli Model Buggy E capisco un attimo Allora Combat 30 Cost 64 Combat Machine gun Per esempio Combat 8 Sì, sono ottime Boh, le macchinette vanno a tutto Era quella che Machine gun 25 Steel plating Di difesa Guarda, non è male Per il 2 Ah, mi sembra profilo Costi di produzione Nemmeno altissimi Guarda Tutto tomato Per quello che offrono Sì, vabbè Più del doppio Costano tanto Capito? Quello è il problema Non so se me lo posso permettere Manpower Ce l'ho Metal ce l'ho No, ce l'ho Posso permettermi tutto Manpower Eh, ho la forza lavoro per costruirlo Eccoli qua 110 Macchinette E comunque Abbiamo un cassino Vedi Industrial point Perché per fortuna Ha finito di produrre La fabbrica Che l'ho messa a costruire Volendo possiamo Upgradarla Ma Ora Più di tanto Non ci serve Siamo in negativo di cibo Da un po' Mi ricordo anche Il motore precedente A noi ci serve Qualcosa per produrre cibo E dove lo possiamo fare? Ovunque fondamentalmente Anche dove ho già costruito Altri edifici Capito? Quindi lo farei qui Cioè Estrarrò qui Sia acqua Che Che cibo Capito? Quindi costruisco Ora l'acqua Ce l'abbiamo abbondantemente Regola Earth Farm Il discorso è qui Mi pare che il pianeta Fosse tranquillo Per la produzione di Di cibo Perché Se l'atmosfera Non era similare A quella terrestre Alla bisogna fare Un Dome Facility Che è un'agricoltura Al chiuso Diciamo Capito? Regolata Quale sarà il discorso? Non mi ricordo più il pianeta Io penso che fosse similare Alla Terra Comunque faccio Dome Facility Guarda Tanto vedo che Ci costa un po' più di energia Ma ci costa anche meno acqua Sì che forse Forse Ci conviene E l'ho messo lì In costruzione Ok? Ho tutto Mi serve Tranne un machiner E ne compro una Poi posso vendere Un pochino di fuel Non tanta Un po' di acqua No l'ho comprato il fuel Mi sa Un po' di acqua E poi E poi metalli rari In un casino E poi metalli rari è un casino Per vedere Il supporto c'è Di tutti Salvo perché Il discorso delle ribellioni Come viene Cioè se ti vai nel gradimento Dove eri prima Dove c'è anche la lancetta Ah Vaci un attimo Ecco No lo vedi qui Lì a destra Ci sono un sacco di voci Tipo popolo Vedi Lì a destra L'arancetta Dico Sì sì Questo è il supporto Alla popolazione Questo è il supporto Del lavoratore Il supporto Il soldato Il supporto Il leader Io credo che Cioè Io ho visto che prima Appena lì va Comunque In negativo Anche il supporto Soprattutto Del leader Sì Non per cazzo Perché te li fa ribellare Dipende anche da questo Ma anche di poco Dipende anche Dalla loyalty Capito Che info Eh sì Questi qui 39 È facile che si ribelli Capito È una relazione degradata C'è una percentuale Per esempio Ora prima Che si bloccano Abbiamo già registrato Un pezzo Però si è bloccato Il gioco Abbiamo dovuto ricaricare E Non era successo Quindi Vuol dire che c'è una percentuale Randomica Giusto Ora riposto il turno Vediamo di che morte Si muoie Perché Non so se compaiono Un'ora Questi soldati ribelli O magari nessuno L'ha seguito Questo leader Che ci ha abbandonato Non credo proprio Perché è una riserva Nemmeno da di Eccoli Guarda Eccoli Ai soggetti Quindi abbiamo mantenuto La promessa Di mantenere A provazione felice Bene Sono andati sui scappati Vi lascio qui questi 12 Perché Qui c'è andato nemici Che non li vedo più Ora Mi sa che si stanno reposizionando Da lontano Oppa unfavorata dignità все Iscrivono Qui c'è H seed Ho 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 FLAGSTONE REBEL FIDERSHIPUM ANG NO CONCILLE HONOMICO TRENTA DESIGN MODEL DESIGN ESERCITO 20 SERVICI SEGRETI 10 AFFARI ESTERI 5 CONSIGLIERE INTERNO 15 20 HUMAN WALKER ION WALKER E' un altro ok con la manista ci chiede di assumere una persona va bene GREAT BENNET oh ora vado a vedere questo BENNET cosa fa dov'è scusa GUN TACTICS GUN TACTICS E DEFENSIVE TACTICS E ENDURANCE ALMEDISARE PERSONAL COMMAND INFANTITATIC GUN TACTICS E ENDURANCE PERSONAL COMMAND INFANTITATIC GUN TACTICS E ENDURANCE la scelta fondamentale la scelta fondamentale o scienze applicate che forse servirebbero per aumentare un po' tecnologia oppure ricerca militare mmm io faccio ricerca militare vai taxation io la scelta è tutto così anzi ma la scelta è così perchè per ora va bene il tutto manager di plomo ci volevo un pochino perchè nemmeno abbiamo incontrato per ora capito un popolo maggiore anche perchè ma l'ho aggiornato il gioco perchè mi sembra un po' diverso oddazzi ti dico quelli sotto di noi secondo me sono più grandi di noi si mmm si sono più grandi ed è un popolo minore fai conto eh boia cioè minore a livello di tecnologia una frazione minore diciamo che una frazione minore è una A molto debole boia quelle maggiori non immagino eh capito chissà dove sono quindi non abbiamo esplorato niente eh non abbiamo ancora tecnologia per esplorare più tanto va bene che abbiamo attaccato ora anche noi non facciamo questi schifo comunque qualche soldato ce l'abbiamo eh 11 di queste per esempio se noi potrebbero spazzar via questi 16 con un supporto minimo cioè siamo un po' indietro militarmente ma non così tanto anche perché produciamo un sacco di materiale raro qui abbiamo un'altra un'altra industria da far qui di metallo raro e sono un sacco di soldi cioè per crescere c'è bisogna vedere che non succeda qualcosa come spesso accade eh purtroppo sono gli imprevisti in volte gli imprevisti sono gravi capito? in qualsiasi tipo di giochi ci sono spesso gli imprevisti beh perché c'è qualcosa che non avevi calcolato bene comunque capito? giusto comunque è molto difficile nei tutti i parametri sempre sotto controllo eh si è vero non è bello del gioco alla fine calmi grande Oliver vai che non ci sta a fancazzo lì per ogni tanto tira fuori ma il caso è innovativo oh modern line troops 2 oh gruppo di linea 2 Oliver Hatton eh dice il suo ma qualcosa ogni tanto sblocca la situazione Infantiline la differenza è questa cioè due di combattimento in più più del doppio dei costi in più oh capito? è un problema questo capito? ha fatto ha fatto una cazzata alla fine si il doppio costa il doppio più del doppio perchè intanto il power è inevitato no vabbè non le produrrò queste unità qui continuo con la produzione vecchia oh oh non so se li posso confrontare personal armor optimization ah forse sono più vedi sono più due le caratteristiche le caratteristiche la difesa capito? hit point 95 e quell'altro? 45 vedi hanno anche il doppio della vita comunque e poi sono carabina e la suite ma il quanto di buono ce l'avranno? si dai alla fine è bilanciato il costo sui stabiliti c'è lei che ha quattro militari research e non c'entra un cazzo capito? improvvisazione purtroppo va messa a mano una che postopongo eh oh discovery research 50 e 50 nuovo modello è un po' si possono migliare a questi machine gun no perché non abbiamo la tecnologia per farlo capito? no eh ho che sbagliato vabbè tanto è inutile ho confermato una cosa che non volevo confermare succede investimenti privati potrei archeologi effort o no prospecting passion non ci interessa questo è interessante extra level of private light industry for selected zone non male investimenti privati investimenti privati increase the amount of private private credit i due punti qui di fatto li voglio tenere provo piuttosto questa cosa fa? no non c'è chi scrive nemmeno io extra level of school for selected zone school school provelling teacher si school va bene ah migliora il livello scolastico faccio questo qui investimenti pool investimenti privati no ho letto male investimenti privati i punti di fatto servono un casino alla fine capito? serve uno per fare tante cose si e poi non so perché qui posso attaccarli ma non con tutti non capisco neanche perché si misura la temperatura adesso eh ah ecco perché si quando farsi si sono dolori si eh c'erano cose spiacevoli 1 a 1 odds capito? chance aspetta un attimo aspetta un attimo dare più soldati sto un attimino buono ora ok siamo in negativo di cibo visto? davvero? no non sei posto a comprare tutto il suo cibo ogni turno? roger che come la faccenda? il supporto c'è cioè non siamo messi malissimi anche noi comunque come forza militare vedi 65 non è a male eh è la tecnologia forse che siamo un po' indato di verlo ecco i nemici che si avvicinano lì sotto è un gran casino qui è un gran casino sì vai si misura la temperatura per davvero ora voglio vedere se hanno il coraggio di rispondere eh non lo so non lo so sì signor siamo in dai se un lì fa fuori ora più affancazzare ecco ci hanno distrutto il carri armato porca troia mission completed cioè ci hanno sfondato il carri armato che era l'universo recente che avevamo abbiamo vinto vittoria fisica? no vittoria e basta dai ok muore 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 loro sono ancora amici in pace si offer client questo sarebbe ottimo praticamente lo facciamo diventare uno stato cliente e loro ci pagano delle tasse capito? ci provo dai dai non ce l'abbiamo fatta non ce l'abbiamo fatta vabbè era difficile gladiator io posso fare... non posso più fare il zone, ho già fatto abbastanza no no c'è stato un incidente con... with a joke con... con uno scherzo finito male ma come? ma come scusa? ma fanno gli scherzi abici finiti male? sembrerebbe youtube eh al resto non lo posso permettere quindi disciplina e leader che è tutto positivo qui da facendo come faccio a mettere in mano la ricerca militare a un pagliaccio? capito? non c'è nessuno in grado di cercare capito? non c'è nessuno in grado di cercare dai the crit junior no tanto quello su... ma sei pieno di junior? no sono tue un altro ma come? andiamo un po si rivellano tutti Infatti basta Ma non c'abbiamo nemmeno uno decente per quella posizione, capito? Leo Quartz? Ma questo è un pagliaccio, capito? Ma dai Mai che andasse di culo Leo Quartz Affirmative Lei che si faceva? La cerca militare, improvvisazione e endurance Endurance Militia più più Affirmative Endurance o endurance? Endurance Bravo Non ispira, vedi? Fist, è uno che picchia duro Autocratico, ma anche democratico Sa un po' di commercio È un pugno duro, dai Improvvisazione e endurance Ci butto lui Mi sono un po' male di ghegna però Ah, training opportunity nella prima Il primo reggimento indipendenti Milizia reggimento Possiamo fargli Possiamo fargli Creare un'unità Due commandos Oppure un Un sargente veterano Io mando due commandos In realtà In realtà vorrei capire bene Gli effetti Sargente veterano Basta Fammelo vedere Primo reggimento Lì ci voglio Eccolo qui Veteran sergeant Mi sono male in ghegna anche Lo vuoi? No, non si è in ghegna Non è importante Dai Ah, poi bisogna dai priest Questo intanto che C'è un preteo Tecno mage Capito? Drona senso Attacking them Bello 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 Tipo Settimo Flagstone mobile E secondo Flagstone mobile Terzo e secondo Gli vado da Un priest Terzo Flagstone mobile Era questo Settimo intanto Siamo bassissimi Del consiglio supremo Bisogna fare qualcosa 21 relazioni Capito? Non c'è un cazzo Ho la licenzio E mi aspetto Che si ribelli 21 è troppo basso Io non posso Tenere il consiglio Il consiglio supremo In mano a questa persona qui Bisogna che la dimetta Succede un casino Si va a sputtana tutto Ora sul job Sì ma la devi per forza Mandar via Other job O no job No job Buttalo via Perché hai Signore Tutti ranking Capito Io gli offro un nuovo lavoro Cioè Gli dico di Un futuro Di offrire un nuovo lavoro No anzi No job Hai rotto il cazzo Vecchia Che cazzo Lo farà Cioè Non è che sono già Boccette qua Davvero Appiness Sta aumentando Vedi Forse era quella Del chiaccia lì Che rompeva Coglioni Però sto perdendo Il lavoro Del supporto Di lavoratori Salari Soldi No va bene No non è questo Cazzo È il Devo chiamare il coso Qui Il sindaco Di Tish Ok non lo sto Ameno vedendo Flagston Governatorio Flagston Worker salary La valzo un meno Non voglio rischiare L'appresaglio Ora come ora Visto Sento un casino Sono io Scusami Ma te guarda L'advisor Capito Ha messo Ma lì È quella cosa Che si deteriorano I rapporti Capito Quel mouse 16 giorni Affirmative Cazzo Non ci voleva Il segretario Si leva di uvulo Sicuramente Il prossimo turno Qualcuno andrà in ribellione Via ci vuole il pugno duro Devo Non posso nello Creare altre Non posso Creare altre unità Perché non ho Finanza economica Per mantenerle Innanzitutto Guarda Che cosa fa qui E vende le metalli rari Rare earth Vendi tutto Eh Uno Stelle Faccio anche le cazzate E poi vende anche un po' di fiore A posto Vediamo un po' come va E poi il mercato ha un limite Non sempre Comunque lo schermo Questo schermo è tanta roba Ha proprio cambiato tutto Prima Lo schermo che avevo prima Non era gran che Lo sai Bello Bello I vixianofante C'è C'è L'Evreb 32 la vecchia Di suitability Capito Però io non posso mettere in mano Le situazioni A una che non ha fiducia a me Capito Facciamo un attacco Facciamo un attacco E' morto E' morto anche il sargente veterano Che figli di puttano Ma dai Ma sono molto più forti Dove lo vedo Sì sono più forti Race formation Faccio un battaglione di quel nuovo Prover Prover 2 però Ah devo sviluppare il modello ora No allora no Aspetta un attimo per via dei soldi Per la pc Dove sviluppare prima il modello Compro il cibo va Vendo metalli rari Finché posso E anche un po' di metalli Me lo posso permettere di vendere Qui c'è il petrolio E non è male Qui deve finire il cibo Perché non posso permettere Di comprare cibo Deve finire qui 1.2 turni Manca machine River Strana che non si è ancora Ribellato nessuno Io chiuderei qui il video per ora E poi vediamo il prossimo Sì Arrivederci Arrivederci a tutti